E' chiaro che si tende a far giocare un po' tutti Per provare comunque il campo Credo che abbiamo proposto una buona palla a voi Chiaro che ancora manca tanto Però queste partite servono soprattutto per provare il ritmo partita Per provare delle cose E soprattutto giocando con giocatori diversi Rispetto a quelli che sono in allenamento Vedere quando ci mettono sotto siamo anche capaci a reagire Adesso ci saranno, prossima settimana, delle amichevole molto interessanti Molto difficili però a noi servono Avete impiegato un set a trovare il ritmo partita giusto Poi dopo diciamo che è andato tutto in discesa Anche perché a Milano obiettivamente bisogna dirlo Aveva qualche assenza di troppo Sì è chiaro l'assenza di Milano Hanno pesato un pochino Però siamo stati bravi secondo me ad approfittarne Comunque ad avere sempre il gioco in mano A parte un po' l'ultimo set e il quarto Che abbiamo in un momento un po' mollato Però gli altri set li abbiamo vinti abbastanza agevolmente E spingendo con non c'era da spingere Quindi siamo contenti È chiaro che possiamo ancora migliorare molto In generale com'è la condizione? La condizione è sicuramente buona È chiaro che un po' di stanchezza c'è Perché comunque stiamo lavorando duro con i pesi Lavorando duro in palestra Poi con questo caldo si fatica anche di più Però è normale che in questo momento siamo appesantiti E questa amichevole serve anche un po' per scaricare il lavoro fisico Che facciamo durante la settimana Grazie a tutti